Salve a tutti ragazzi sono Mr.X e oggi volevo presentarvi un titolone arcade veramente molto storico e decisamente apprezzato da tutti i fan ovvero si tratta di Ghost & Goblins Arcade pubblicato nel 1985 dalla Taito sotto licenza della Capcom perché sappiamo tutti che Ghost & Goblins detiene i diritti giusto alla Capcom e infatti tenderò sempre a ringraziare la Capcom per aver realizzato tal gioco che mi ha fatto appassionare persone o tanta gente come me che ha una data un po' storica alle spalle e di conseguenza non dico di essere vecchio però posso vantare di essere una di quelle persone che in passato ho avuto la possibilità di giocare a questi camminati nei bar sotto caso oppure nelle sale giochi comunque ragazzi indipendentemente da tutto la storia vabbè avete visto che cosa narrava che la principessa o meglio la diciamo la regina, sposo, principessa, non so se è una principessa che deve essere data in sposa a Sir Arthur è stata rapita da un malvagio demone portata nel suo castello, nel suo maniero diciamo che è un intro un pochettino più decente tutto e rappresentata nei successivi seguiti ovvero Super Ghost and Goblins o Super Ghost and Ghost della versione SNES no era Super Ghost and Ghost della versione Super Nintendo dove proprio si vedeva che Sir Arthur e la principessa erano nel loro castello un enorme demone è intervenuto per rapirla e noi di conseguenza dobbiamo cercare di salvarla raggiungendo il maniero appunto del demonio indipendentemente da tutto ragazzi tendo a ricordare che Ghost and Goblins ha dato il via a diverse serie di versioni di rifacimenti infatti l'ultimo è stato fatto su PSP con tematiche mi sembra momenti 3D e per quanto riguarda punti successivi hanno realizzato anche la versione Ghost and Ghost un porting su Master System, Ghost and Goblins decisamente molto più complesso rispetto a questo e anche per i movimenti piuttosto limitato poi troviamo la versione Mega Drive molto bella che è stato diciamo un porting della versione Arcade perché hanno fatto anche Ghost and Ghost di cui mi sono occupato per quanto riguarda la versione Mega Drive che tenderò poi a commentare, a pubblicare e poi alla fine Super Ghost and Ghost della versione SNES che io ho realizzato e poi alla fine ragazzi concentriamoci appunto su questo, su questa versione qui la versione Arcade, la versione decisamente complessa abbiamo appena affrontato un boss che nonostante appunto era il primo boss è stato piuttosto complesso e per quanto riguarda appunto la sconfitta alla fine di ciò l'armatura se l'abbiamo persa ci viene ripristinata e grazie alla chiave che abbiamo ottenuto otteniamo un bel 5000 punti bonus quindi diciamo un bel bottino tendo inoltre a ricordare ragazzi che avrete sicuramente visto che se veniamo colpiti perdiamo l'armatura se invece noi come si dice veniamo colpiti nuovamente di conseguenza perderemo una vita che sono le vite elencate qua sotto possiamo utilizzare diversi tipi di armi tra cui questa lancia qua che secondo me è una delle armi molto molto più carine e potenti mentre nelle altre versioni si può utilizzare un'armatura del tutto diversa l'armatura dorata che può scatenare il potere appunto all'arma relativa ma in questo caso dovremo contentarci delle armi semplici che accompagnano appunto l'utilizzo di questo personaggio come potete anche ben vedere è diviso in stage nel primo stage eravamo in un cimitero adesso siamo in una specie di palazzo abbandonato un palazzo antico medievale abbandonato infestato da creature, da demoni in questo caso sono troll non saprei come definirle e inoltre da corvi che tendono appunto di impedirci l'obiettivo è appunto salire in cima per poi scendere dall'altra parte perché avete visto che questo edificio è bloccato o meglio diviso da una muraglia e noi dovremo diciamo di superare questa muraglia qui comunque facendo sempre molta attenzione a queste creature mi raccomando perché avete visto che sono molto letali e per di più ragazzi non c'è anche da meravigliarsi che vedete in alto a sinistra dove c'è player 1 time è presente il tempo che questo può essere veramente molto pericoloso perché avete visto che scorre molto molto rapidamente perciò appunto ragazzi avete visto anche l'abilità di questi troll qua che è quella di passare attraverso i muri perciò io consiglio ragazzi se riuscite a ucciderli tutti in modo tale da avere un bel passaggio libero fate pure perché ragazzi i secondi sono contati e le vite sono limitate anche loro quindi aspettiamo più che altro che magari faccia spazio per colpirlo proprio anche se è un po' tradimento e vile alle spalle però noi non ci importa e proseguiamo tranquillamente anche perché avete visto che i secondi stanno letteralmente scendendo attenzione a questo pezzo dove troviamo queste piattaformi di cemento che tendono un po' a levitare attenzione anche i corvi rossi questi sono veramente cattivi attenzione attenzione il punteggio ragazzi avete visto che dopo un tot di punteggio tende a incrementare le nostre vite quindi mettiamocela tutta ragazzi perché adesso dovremo affrontare il boss della zona ovvero ancora due enormi giganti e questa volta non è soltanto uno ragazzi ho detto proprio così sono due davanti a noi che esatto eccolo qui uno di questi se riusciamo a sconfiggerlo siamo a cavallo eccolo qui questi qui sono veramente molto letali ragazzi facciamo molta attenzione dai dai oh sconfitto adesso reperiamo la chiave anche perché abbiamo pochi secondi a disposizione uff mancavano effettivamente sei secondi alla fine e abbiamo superato la prima parte siamo arrivati al secondo stage player one ready attenzione ragazzi a questo punto questa caverna qui che conduce poi in una specie di grotta è assai complessa perché qua assistiamo a un ritorno degli zombie quindi non diamo tanta corda ragazzi ma più che altro l'obiettivo è quello di fare attenzione alle colonne che si pongono davanti a noi perché lanciano delle sfere di energia che fanno assai male ecco qui avete visto attenzione guardate 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 ecco se riusciamo a evitarla perfetto adesso più che altro non è tanto queste colonne qua o gli zombie che tendono un po' a dare fastidio ma sono questi demoni rossi eccoli qui che abbiamo visto in precedenza se non erro appunto questi demoni qua si era diciamo il protagonista dello spin off per super nest dragon no demon's crest mi sembra se non erro anche quello lì era un bel titolino interessante che magari in futuro forse me ne occuperò comunque ragazzi indipendentemente da tutto demon's crest non ho mai avuto la possibilità di giocarci effettivamente dovrò documentarmi e studiarlo prima di giocarci io ovviamente gioco ai giochi che conosco dall'infanzia ecco quelli che ho avuto modo di sperimentarci proprio sulla pelle avete visto che non è semplice colpire i demoni rossi ma più che altro bisogna effettivamente conoscerli e sapere un po' i loro movimenti non crediate che io sappia a memoria questo gioco qua è sempre stato molto complesso e in sala giochi ero quasi riuscito a finirlo avevo fatto veramente una fatica madornale però bene o male ce l'avevo quasi fatta e non avevo neanche sprecato tanti 500 perché non c'è molto da sprecare qui una volta terminato diciamo il credito non puoi più continuare caro mio quindi di conseguenza mi sembra che forse l'avevo cominciato una volta che ero arrivato in questa zona qua che mi aveva sconfitto il drago e poi dopo ho dovuto rifare tutto da capo poi alla fine mi ero incavolato come una iena ero talmente sudato e arrabbiato che avevo veramente le camicie scusate eh scusate se ve lo dico che grondavano di sudore fa un po' schifo lo so però per farvi capire quanto era appassionato poi si giocava spesso e volentieri in estate in estate poi era sempre uno spazio andare al parco dove c'era il bar che aveva tutti questi cabinati ai vecchi tempi anni 80 e anni 90 veramente uno spettacolo divino scusate se mi sono perso non ho commentato la sconfitta del boss precedente che era un enorme dragone non era tanto difficile però mai da sottovalutare attenzione a queste piattaforme fatte da occhi presumo mi sembra siano occhi presumo eh sembrano comunque proseguiamo sempre a destra saliamo sempre sulle piattaforme aspettiamo che arrivi il cambio esatto saliamo benissimo benissimo andiamo avanti attenzione al demone rosso che questo rompe effettivamente un po' troppo le scatole mi ha anche massacrato l'armatura e io scapperei anche perché possibilmente è meglio evitare certe bestie o ok è massacrato attenzione a queste fiammelle qua perché più delle volte tendono a spuntarci sotto il sedere e ci strinano e quindi non è il massimo per di più anche con questi simpatici diavoletti che tendono ad arrivare un po' e insistere sul fatto di ucciderci attenzione più che altro alle fiammelle è proprio una bella combo di problemi eh ragazzi facciamo decisamente attenzione ragazzi perché qua la situazione è un po' critica perché avete visto che non ti danno neanche possibilità di proseguire oh che bello abbiamo preso un oggettino interessante dai dai che forse ci va bene ragazzi tra un po' io mi scuso per un possibile per un taglio qua di scena dove vedrete Sir Arthur che ha un'arma diversa purtroppo stupidamente avevo un pezzo che si vedeva nero a causa di una pessima renderizzazione di un errore di renderizzazione allora che cosa ho fatto ho incollato il pezzo proveniente dalla seconda volta che lo realizzo perché sapete tutti voi appassionati che Ghost and Goblins una volta diciamo è terminato devi ricominciarlo da capo e utilizzare appunto questo scudo qua per vincere avete visto e quindi adesso io ragazzi vi faccio vedere il boss che dopo dovrò riaffrontare ricominciando da capo grazie all'ausilio di questo scudo magico qua che servirà appunto per vincere il gioco adesso comunque ritaglio il pezzo e faccio vedere che siamo praticamente in un altro posto nello stage 4 avete visto ecco come se avessi proseguito con la vendura precedente purtroppo a causa di una renderizzazione pessima che era risultato nero ho dovuto quindi incollarci questo pezzo proseguiamo ragazzi siamo in uno stage 4 in questo andro demoniaco qui con nuovi nemici ovvero questi scheletri qua che spero che non ci abbiate mai a che fare perché avete visto come sono cattivi e vi assicuro io che non è veramente il massimo averci a che fare attenzione al demone qua la cattiveria infatti mi ha fregato l'armatura anche a tentare in tutte le maniere più delle volte sono matematici nel senso che se ti devono colpire ti devono colpire per forza saliamo le scale saliamo attenzione perfetto track track muore 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 e di conseguenza attenzione a questo che fa piovere degli arpioni delle lance però se no l'elevatore non viene io come faccio a passare ma porca miseria è il brutto perché devi anche calcolare i tempi e tutto e le cose si ripetono anche saliamo facendo sempre attenzione ai mostri oh per un pelo mamma mia ragazzi questo si che fortuna attenzione questa piattaforma qua è più che altro quello in alto che potrebbe sparare e fregarmi in pieno totalmente ok ci siamo quasi facciamo molta molta attenzione colpito meno male ok adesso saliamo di sopra e adesso qua dovremo prepararci ragazzi perché avremo a che fare con una bella battaglia non so neanche come sono riuscito a fare una cosa del genere ragazzi non chiedetemelo specialmente non tanto adesso ragazzi ma nella seconda parte che è molto più difficile perché una volta che avremo ricominciato Ghost and Goblins o meglio vinto ci farà ricominciare il gioco in versione più cattiva ragazzi e adesso dovremo affrontare questo demonio quello che aveva rapito la principessa e qua se non va di fortuna va di fortuna va sacrato e la chiave è a noi e possiamo aprire la porta per il prossimo livello ovvero ragazzi prepariamoci allo stage 5 qua la situazione è ancora ancora più critica ragazzi voi non vi immaginate la fatica che ho fatto e la concentrazione che ho avuto per affrontare questi due bestioni qui ecco specialmente per il fatto che è anche impossibile cercare di evitarli fortunatamente abbiamo addosso l'armatura poi adesso ci troviamo anche praticamente tutti i boss ecco mi ha massacrato totalmente mi ha totalmente massacrato è veramente una cosa incredibile vero ragazzi saliamo di sopra facciamo decisamente molta attenzione ecco qua ci troviamo il demone che abbiamo visto che è veramente molto insistente se riusciamo bene o male a colpirlo che si trova poi al piano di sopra eccolo eccolo qui eh ma qui adesso insisterà per per poterci mi dispiace ragazzi ma la vedo molto molto complessa uh un'armatura e abbiamo lo scudo e lo scudo è veramente utile più che altro riuscire anche ecco a sparare agli scheletri perché questi sono veramente molto complessi da uccidere e l'abilità di questo scudo ragazzi è quello che permette di parare anche i colpi e respingerli più che respingerli è meglio parare i colpi ecco è un'ottima arma per attaccare vabbè per modo di dire attaccare ma specialmente per difendersi ecco qua come la vedo come facciamo qua ecco abbiamo trovato il demone rosso mamma mia eccolo qui e in più anche il tempo sta scorrendo quindi ci sta essendo molto nemico della situazione esatto dai su benissimo dai che ce l'abbiamo quasi fatta scusate se commento ma nonostante il gioco l'avevo già realizzato ci sono questi momenti sempre di tensione di ansia nonostante stai commentando e non stai giocando mi ricordo ancora pieno alle sensazioni che provavo ovvero ansia e rabbia allo stesso tempo non proprio rabbia ma concentrazione ok saliamo di sopra dai che manca poco no dai 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 sconfitto ma ne manca uno ragazzi erano due non erano uno meno male facciamo un po' oh per un pelo mamma mia aiuto io non so io non so ragazzi non so voi ma io sono veramente in crisi aiuto muori 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 barbone muori 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 direi che ce l'abbiamo fatta siamo nello stage finale per modo di dire ragazzi perché sapete benissimo che per affrontare questo allora abbiamo adesso lo scudo chiaramente ma non è di certo finita qui ragazzi perché adesso avremo inoltre la possibilità di sconfiggere questo ma guardate poi la scritta finale che ci appare una volta sconfitto oh questo era tutto un'illusione una trappola di satana e adesso tutti i nostri progressi si sono sfumati ovvero dovremo ricominciare da capo ma giustamente nella modalità più complessa avete visto gli zombie in primis che sono decisamente più veloci rispetto alla modalità precedente perciò adesso noi cerchiamo di non dargli troppa corda e di proseguire più che altro dobbiamo guardarci veramente alle spalle raccogliamo il punteggio in modo tale da poter incrementare i nostri punti e ottenere un bel record finale ragazzi decisamente noi adesso dobbiamo proseguire facciamo non attenzione ma tanta attenzione benissimo andiamo avanti ecco qua il demone ecco massacrato mamma mia sembra che mi stia andando meglio questa partita qua che quella precedente forse perché magari essendo più allenato c'ho più modo per gestirmi sulle cose ecco come non detto ho perso l'armatura mamma mia non posso immaginare dopo mamma mia vabbè concentriamoci andiamo avanti quando arriverà il dopo ci penseremo ma porca miseria volevo volevo qualcosa da prendere invece niente da fare mi farebbe comodo un'armatura ma mi sa che devo attaccarmi al tram prima di averne un'altra eccolo qui facciamo attenzione al boss al primo boss ufficiale sconfitto e otteniamo la chiave e la nostra armatura si è ripristinata fortunatamente siamo al secondo livello ragazzi attenzione come dicevo in precedenza dobbiamo attraversare questo posto qua al fine di arrivare in quel borgo medievale abbandonato facciamo sempre attenzione ai demonietti che tenteranno in tutte le maniere di impedire il nostro cammino saltiamo su questa piattaforma velocemente attenzione al demonietto che potrebbe rompere un po' le scatole questa volta accendata un po' di lusso abbiamo l'armatura abbiamo l'armatura attenzione ai demoni che possono piovere da per un pelo ragazzi dalle finestre attenzione a questo troll qua che tenterà di inseguirci mamma mia oh ok saliamo sempre di su questa volta mi sta andando un pochino meglio dai rispetto alla partita precedente mi sento più fortunato nooo porca miseria credevo di avercela fatta invece niente da fare uh grandissimo bug avete visto chi mi ha salvato se no mi sarei fatto un tuffo nell'acqua attenzione al corvo rosso andiamo avanti ok prima di tutto dobbiamo assolutamente andare avanti ok perfetto attenzione dai 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 massacriamolo 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 è andato ok siamo di nuovo in questa caverna qua che vi dicevo in precedenza molto molto più complessa rispetto alla caverna precedente avete visto come tarellano gli zombie come si muovono velocemente un accidentaccio qua si sta veramente mettendo non male ma malissimo specialmente ecco guardate avete visto non oso immaginare i demoni rossi mamma mia dai 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 attivati 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 benissimo no la lancia non la prendo perché mi serve lo scudo ripetiamo ragazzi eccolo qui ecco preso preso buon se ne è andato e mille punti a noi proseguiamo attenzione sempre agli spettri che potrebbero spuntare molto bene bene spettri andati andiamo avanti facciamo decisamente attenzione anche perché qua la situazione sta peggiorando proprio nel vero senso della parola se riusciamo a massacrare oh finalmente attenzione al demone perché questo insisterà molto eccolo qui preso questa è stata una botta di fortuna ragazzi saliamo le scale coltello questo non ci serve perché noi adesso dobbiamo effettivamente andare avanti fighe con la lancia là per un pelo mi avrebbe sicuramente massacrato attenzione ai demoni nooo che legnata mamma mia oh che fortuna massacrato questo demone qua adesso avremo a che fare nuovamente con il drago in versione molto più arrabbiata molto più cattivo dai 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 nell'angolino massacrato oh mi sta andando veramente meglio in questa partita qua che è più complessa rispetto alla parola principale forse ripeto perché mi sono scaldato un pochettino e quindi riesco bene o male a gestirmi un po' meglio ok livello dove ci sono le piattaforme degli occhi dopo arriveremo nella zona fiammeggiante con le fiamme che ti saltano dietro per il sedere saliamo ehi perché non riesco a salire ehi ok l'altro bug mi sembra che la versione Game Boy Color mi sembra che una riedizione di questo aveva non aveva avevano eliminato i bug nella versione per Game Boy Color che io possiedo perché non me la ricordavo così buggata sta versione comunque proseguiamo sapete quante ore anche giocarci nella versione Game Boy Color mamma ecco questo qua mi ha fregato l'armatura mi sembra giusto stavo dicendo la versione Game Boy Color che al tempo dovevo fare la cresima era uscito mi sembra negli anni 90 tutto dovevo fare la cresima e come regalo di cresima il genitore mi ha detto compro un gioco del Game Boy Color appena ero andato da un privato che è vicino a casa mi ha detto figa non puoi mostrarmi Ghost and Goblins del Game Boy Color sei un delinquente gli avevo detto allora di conseguenza l'avevo acquistato ore e ore a giocarci che spettacolo mi piaceva un casino a me Ghost and Goblins Sir Arthur uno dei miei personaggi preferiti della casa Nintendo ovviamente facciamo casa Capcom più che altro ok attenzione adesso dovremo di nuovo riaffrontare il drago questo pezzettino l'avrete già visto in precedenza dove io diciamo che ho dovuto tagliare il pezzo perché si vedeva nero allora ho preferito mostrarvi che cosa era presente tanto la battaglia con la lancia era la medesima ragazzi non cambiava nulla siamo allo stage 4 prepariamoci ok adesso ci sarà da divertirsi perché questo posto qua pullula di scheletri cosa che nella versione precedente non c'erano ma apparivano direttamente nel quinto stage armiamoci di pazienza e coraggio ragazzi perché ripeto non è di certo il massimo affrontare questo abbiamo una bella ascia un'arma molto micidiale ma attualmente inutile perché non necessaria per vincere questa partita attenzione allo scheletro ecco qui si è attivato oh ma io non so se sono paraculato oppure con tutti questi spettri qua mamma mia saliamo eccolo qui il mio amico del mio demone preferito aiuto massacrato ok attenzione allora io dico massima concentrazione anche perché qua già adesso che sto commentando mi stanno sudando le mani dalla tensione perché già l'emozione che avevo provato a giocare a questo con la concentrazione che avevo addosso mamma mia era una cosa allo stesso tempo divertente perché mi sembrava davvero di tornare bambino sindrome di Peter Pan a tutto spiano ragazzi però allo stesso tempo forse per chi magari è un pochino più novello sul fatto dei giochi questi giochi qui non li ha purtroppo provati neanche per colpa sua ma perché è nato in un periodo piuttosto lontanuccio rispetto al mio quindi i cabinati più di tanto non se li ha goduti non ne faccio una colpa per carità però tendo sempre a ripetere è sempre una bella sensazione rivivere questi giochi purtroppo nella mia città sembrerebbero quasi tutti scomparsi i cabinati nel dove andavo io purtroppo il cosiddetto campo di marte attualmente non ha più i cabinati mai scoperto il motivo dovrei ancora verificare in qualche bar rustico di quartiere fuori città cioè sempre dentro la città ma in periferia forse lì qualcosa puoi trovare ancora comunque non importa affrontiamo di nuovo il demone sappiamo che adesso abbiamo lo scudo quindi possiamo prepararci a respingere un po' i suoi colpi teniamo sempre presente che il tempo stringe quindi cerchiamo di essere molto bravi oh sono riuscito a evitare il colpo mamma mia dai 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 che se ne va andato dai 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 40 secondi no ma perché non lo prendo boh se ne è andato che fortuna ok ragazzi siamo allo stage finale siamo allo stage finale quindi ragazzi prepariamoci perché siamo proprio vicini alla fine saliamo sempre di sopra per poi arrivare al demonio finale sempre questi due energumini mi hanno rubato l'armatura come era successo nello spezzone principale iniziale attenzione sempre al drago qui massacriamolo se potete vi consiglio di massacrarlo se no questo qui tende a inseguirci quindi non è il massimo della simpatia dai su muori muori attenzione qua c'è il demone quindi molta molta attenzione perché sapete benissimo uh che fortuna allora ragazzi scusate un secondo che uh la corona 5000 punti l'armatura perfetto vediamo di perderla benissimo attenzione allo scheletro massacriamolo facciano un altro ecco è saggia cosa massacrarli prima che questi possano emergere e continuare a saltare come dei matti attenzione al troll ecco qua sarà un bel casino perché ci troveremo anche un demone prima massacriamo il demone come abbiamo fatto in precedenza beh massacrato adesso pensiamoci un po' allo scheletrino ok stupidino che è caduto nella mia trappola è un altro demone ma come ma questo da dove salta fuori non avevo previsto che saltava fuori un altro demone però massacrato prepariamoci ragazzi perché adesso ne dovremo affrontare due come era successo in precedenza decisamente più cattivi e più arrabbiati ho perso l'armatura benissimo mister x come farò ad ammazzare il prossimo sperando di riuscire ad arrangiarsi dai dai ragazzi adesso siamo al demone finale prepariamoci stage stage 6 finale ragazzi resolve your battle perfetto ragazzi la principessa adesso si allontana e adesso il demone è tutto nostro come avevo detto in precedenza ragazzi il punto debole di questa creatura è la bocca dove spara il fuoco non è semplice beccarla però ci si può un attimo avere un po' di fortuna e riuscire a colpirla e avvicinarsi avete visto nella versione poi snest cambiava di colore e diventava verde e diventava molto fortissimo mamma mia che bestia che era dai che ci siamo dai su ma porca miseria ho preso l'armatura no massacrato si ok ragazzi siamo giunti alla conclusione di questo gameplay spero che il gioco vi sia piaciuto e ci sentiremo nel prossimo gameplay commentato ciao a tutti e grazie per aver visto questo video grazie ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti